la coroncina della divina misericordia nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo senno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne la vita eterna amen eterno padre io ti offro il corpo il sangue l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio nostro signore Gesù cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la Sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Descrizione della pittura Santa Bibbia Giovanni 20, 26 Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Questo messaggio della Santa Scrittura è stato aggiunto dalla pittrice in francese. Otto giorni dopo Pasqua è adesso la Domenica della Misericordia Divina che Gesù aveva chiesto nel diario di Santa Faustina Kowalska. Dal diario di Santa Faustina Kowalska Visione di Gesù misericordioso La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due raggi. Rosso l'uno e l'altro pallido. Muta tenevo gli occhi fissi sul Signore. L'anima mia era presa dal timore, ma anche da gioia grande. Dopo un istante Gesù mi disse, dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto Gesù confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui suoi nemici. Io stesso la difenderò come mia propria gloria. Grazie. 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 Grazie.